Buongiorno ai telespettatori di Le Fonti TV, siamo qui per una nuova puntata dedicata alle interviste di Le Fonti Legal. È trascorsa la prima settimana della cosiddetta fase 2 e siamo quindi in grado di fare un primo bilancio su come andata e su quali sono state le criticità dal punto di vista legale, andando a vedere uno dei settori che è stato più rivoluzionato da questa emergenza sanitaria. E parlo del settore fashion. Facendo un rapido salto all'indietro temporale di tre mesi, cioè all'inizio del lockdown, ricordiamo che il settore moda ha dovuto affrontare un'emergenza molto impattante. Sfilate ed eventi cancellati, saracinesche delle boutique e dei punti vendita abbassate e la necessità di dover riorganizzare il business ritagliandolo appunto su misura su questa fase emergenziale. Possiamo quindi vedere quali sono le criticità affrontate dal punto di vista legale, come sta andando questo inizio di fase 2 e quali sono anche le problematiche grazie al nostro ospite di oggi che vi presento e che è Sara Citterio, Corporate Affairs, Legal e Compliance Manager di Trussardi. Buongiorno e benvenuta Avvocato. Buongiorno, grazie dell'invito. Ecco, grazie a lei per essere qui con noi. Facciamo quindi il punto inizialmente dall'inizio. Partiamo dalla cosiddetta fase 1, quella del lockdown. Come è andata, insomma, quali sono state le problematiche per voi? Prego. Sì, grazie. Noi prima, diciamo, della fase 1 abbiamo avuto una fase meno 1, nel senso che comunque il Covid aveva già iniziato ad avere un certo tipo di impatto quando ha colpito ovviamente la Cina. Noi avendo la distribuzione anche ovviamente in loco siamo stati interessati come altri marchi del settore, ovviamente dal primo impatto che le misure di contenimento che sono state adottate dalla Repubblica Popolare Cinese hanno avuto in quei territori. E ovviamente avendo anche una piccola produzione in loco, ovviamente ci siamo trovati a dover affrontare anche il rischio di avere eventuali ritardi nelle importazioni di alcune merci che facevano parte della collezione che sarebbe andata nei negozi. Quindi già da questo punto di vista diciamo che il Covid aveva incrociato la nostra strada qualche mese prima di quella che poi è stata la fase 1 di cui stiamo parlando adesso, fase 1. Quindi si parla di fine dicembre, inizio dicembre insomma? Quindi diciamo più che altro tra gennaio e gli inizi di febbraio già avevamo iniziato a vedere degli effetti che erano potenzialmente pericolosi. Logicamente in Cina avendo fatto prima abbiamo visto alcuni effetti, le manovre ovviamente che il governo cinese ha messo in atto sono state un po' più hardcore rispetto a quelle che sono state possibili in Italia, però avevamo già avuto un'idea di quello che sarebbe potuto succedere e che sfortunatamente è accaduto anche nel nostro paese. È logico che poi quando ci siamo trovati davanti alla fase 1 dal punto di vista ovviamente nostro, cioè italiano, è stato un po' difficile anche adattarsi perché pur avendo già visto quello che era accaduto in un altro paese, trovarsi ovviamente nella stessa situazione ma dovendola vivere in prima persona è stata una complicazione maggiore. Dal punto di vista poi della gestione dell'ufficio legale ovviamente le difficoltà si sono amplificate anche perché ovviamente come tutti noi non aspettavamo che sarebbe durata così a lungo questa fase 1, per cui l'organizzazione che avevamo messo in atto, sebbene anche in maniera abbastanza veloce, ha retto ma ha retto ovviamente con tutta una serie di limitazioni che erano limitazioni, sono state limitazioni innanzitutto dal punto di vista diciamo infrastrutturale perché ovviamente ci siamo dovuti adattare a lavorare a casa in una situazione un po' complessa, non tutte le persone del mio team avevano la possibilità comunque di avere una connessione almeno per otto ore al giorno, quindi abbiamo un po' dovuto adattarci a dei ritmi di lavoro diversi, a delle organizzazioni anche tra di noi di tipo diverso e poi ovviamente la cosa che è mancata che dal mio punto di vista è fondamentale quando si lavora all'interno di un ufficio legale di strutture anche solo mediamente complesse è quella del contatto con le persone, quindi il contatto con i colleghi, il fatto di percepire comunque le problematiche quando nascono a livello anche di semplici incontri, io lo dico molto spesso che a volte la percezione di una problematica legale di un determinato progetto può nascere anche semplicemente da una conversazione fatta alla macchinetta del caffè e queste sono state cose che ovviamente sono mancate di più nella fase 1 proprio perché la lontananza ha fatto sì che alcuni legami che si sono instaurati nel corso degli anni si siano un po' venuti a perdere proprio per la mancanza di contiguità tra le persone, quindi sicuramente questa è stata una delle criticità che abbiamo dovuto affrontare insieme poi a tutte le criticità diciamo così di tipo tecnico che abbiamo dovuto risolvere, prima tra tutti ovviamente quella della chiusura dei negozi, noi abbiamo anticipato sebbene di un giorno ma abbiamo anticipato proprio perché avevamo comunque la necessità di tutelare sia i nostri collaboratori ma sia anche i nostri clienti ovviamente soprattutto loro anche dai rischi che si stavano manifestando da questa esplosione di problematica epidemiologica, quindi abbiamo chiuso un giorno prima i negozi con una decisione sicuramente molto rapida e fatta un po' alla cieca che però poi è stata successivamente appunto seguita dalle disposizioni governative e che è andata avanti fino al 18 di maggio, quindi questo ha comportato sicuramente la gestione di una serie di criticità nei rapporti ovviamente con le controparti locatrici e questo non è stato sicuramente semplice anche dal punto di vista di supporto che l'ufficio legale dà a coloro che poi hanno dovuto interfacciarsi a livello tecnico con i proprietari ma anche la stessa gestione ovviamente della forza lavoro e la gestione con altri clienti nostri rivenditori che ovviamente hanno, si sono trovati ad avere la stessa nostra posizione cioè di essere stati costretti a chiudere. Certo, per quanto riguarda le locazioni infatti ricordiamo che non c'è una, non ci sono delle linee guida o un accordo base tra le parti e bisogna comunque cercare di risolvere la situazione caso per caso ma senza l'aiuto, poi mi correga se sbaglio avvocato, della famosa clausola della causa di forza maggiore, giusto? Esatto, sì, nel nostro diritto italiano non esiste una vera e propria clausola di forza maggiore come esiste nei contratti internazionali con cui ovviamente abbiamo avuto un po' meno di difficoltà ma ovviamente basandoci su quelle che sono le disposizioni del codice civile abbiamo poi dovuto negoziare volta per volta con le nostre controparti commerciali per cercare di condividere insieme quindi nella maniera più equa possibile le difficoltà che questo periodo ha portato con sé considerando poi anche il fatto che ovviamente abbiamo anche avuto dall'altra parte tutta una serie di problematiche come le stavo dicendo con i nostri stessi clienti e quindi abbiamo cercato anche di capire essendo anche noi dall'altra parte nella medesima posizione in cui erano loro cercare anche di andargli incontro per quello che è stato possibile per condividere il peso delle misure di contenimento ovviamente del virus che hanno determinato però le problematiche di natura economica che adesso ci troviamo comunque tutti ad affrontare. Quindi sicuramente è stato un periodo estremamente complesso con anche tutta una serie di difficoltà che poi sono derivate dalla interpretazione della normativa che si è susseguita nel corso del tempo e che è stata particolarmente numerosa e complessa quindi anche il fatto di dare delle linee guida all'interno dell'azienda che fossero il più possibile precise corrette che individuassero anche i punti critici per un'azienda delle dimensioni della complessità come la nostra non è stato sicuramente semplice all'interno di un contesto che cambiava abbastanza velocemente nel corso del tempo e quindi ci dava anche poca possibilità di analisi approfondite sui singoli aspetti di questa normativa. Peraltro poi la fase 1 italiana è diventata a brevissimo tempo la fase 1 in Spagna, la fase 1 in Francia, la fase 1 in tanti paesi fino alla Russia in cui noi siamo presenti e ovviamente anche questo ha determinato poi una serie di complessità legate anche all'andare a valutare quelle che erano le normative locali e non è stato assolutamente semplice perché poi non essendo neanche in sede quindi lavorando da casa è stato anche particolarmente difficile riuscire a reperire le fonti analizzarle e dare una risposta di prima battuta che fosse più possibile precisa ai colleghi che operavano soprattutto nell'area retail per poter affrontare momento dopo momento la situazione quindi anche decidere quando occorreva chiudere, quando era necessario, quando era opportuno chiudere e quindi dare anche indicazioni poi su come e quando riaprire e con che modalità e quindi come affrontare anche la fase 2. Ecco ma anche all'estero c'è stata la stessa complessità dal punto di vista di produzione normativa che abbiamo avuto in Italia oppure gli altri paesi sono stati un po' più tra virgolette chiari perché è vero che l'Italia ha fatto da prepista per molti versi con il lockdown che altri paesi invece hanno voluto ritardare però è altrettanto vero appunto come diceva lei che c'è stata una iperproduzione normativa anche a livello locale. Sì, noi abbiamo avuto e continuiamo ad avere la complessità dettata dal fatto che le regioni sono autonome su alcune disposizioni e quindi abbiamo due diversi livelli di legislazione il che rende anche molto più complesso affrontare il problema delle misure da dover adottare basti pensare che appunto noi abbiamo diversi negozi in diverse regioni e ci troviamo a dover gestire diverse distanze minime di sicurezza per i nostri clienti all'interno dei negozi che sembra una cosa banale però in realtà è una cosa molto importante perché se dobbiamo prima di tutto tutelare i nostri clienti e sentirli accolti e sicuri all'interno del nostro ambiente di vendita è logico che dobbiamo garantire loro una misura minima che sia però anche conforme alle disposizioni vigenti. Devo dire che dal punto di vista di produzione legislativa non è stato semplice recuperare le fonti perché ovviamente è molto più complesso anche affrontando poi legislazioni in lingue diverse non sempre è semplice riuscire a trovare la risposta immediata. Devo dire che però c'è stata molta meno produzione legislativa da questo punto di vista in altri paesi è stata un po' più complessa la ripartenza diciamo piuttosto che la chiusura del periodo diciamo che va dalla fase 1 all'inizio della fase 2 sicuramente è stato più semplice in altri paesi rispetto a quello che è stato in Italia dove appunto ogni due settimane si andava a valutare la situazione quindi eventualmente anche ad implementare e poi a dare anche tutta una serie di strumenti di finanziamento strutturale a sostegno dell'economia. Mentre invece in altri paesi diciamo che si è legiferato un pochettino di meno e magari ci sono stati provvedimenti poderosi molto complessi ma a livello di numerica un po' più contenuti sicuramente poi la fase 2 è stata poi un po' complessa per tutti quindi anche perché è ripartito devo dire che noi siamo stati tra virgolette un po' più fortunati e forse un po' più preparati perché i primi negozi che hanno riaperto sono stati i negozi austriaci noi avendo un punto vendita in Austria abbiamo anche potuto valutare come sarebbe partita la fase 2 quindi quali erano le misure che ragionevolmente ci saremmo attesi anche in Italia e quindi da questo punto di vista ci eravamo anche un po' più preparati in anticipo rispetto ad altri che tenga presente che in Austria sono ripartiti il 17 di aprile e quindi noi già il 17 di aprile avevamo una visione di quello che sarebbe potuto accadere anche in Italia siamo stati in grado di approvvigionarci di tutta una serie di strumenti di protezione individuale che sono comunque diventati obbligatori anche in Italia che era ragionevole pensare che lo sarebbero diventati ma l'abbiamo già visto adottato in un altro paese quindi abbiamo avuto questo vantaggio per cui siamo riusciti a fare scelte anche di protezione per quello che riguarda le mascherine piuttosto che i disinfettanti da tenere nei negozi le modalità per segnalare ai clienti le distanze di sicurezza che ci ha forse un po' più facilitato rispetto a chi magari attendeva le disposizioni normative italiane non aveva visto quello che era successo in altri paesi che sono ripartiti leggermente in vantaggio rispetto a noi anche perché hanno avuto ovviamente un carico epidemiologico diverso rispetto a quello che abbiamo avuto in Italia e quindi si sono magari dovuti adattare negli ultimi giorni quindi da questo punto di vista forse il fatto di avere un outlook su più paesi ci ha anche leggermente aiutato nella ripartenza certo e chiaramente appunto parliamo ora proprio anche delle problematiche che stanno emergendo un po' lei le ha anticipate in questa fase 2 un nuovo inizio l'avete chiamato anche voi nel vostro spot e si tratta proprio di una completa rivoluzione nel mondo retail per quello che riguarda Trussardi il problema appunto è il fatto che in ogni regione poi ci sono delle regole diverse quindi volevo capire anche come vi siete se come tante aziende hanno deciso di comunque fare un po' il quadro in maniera autonoma oppure se in ogni regione poi si sono organizzati in modo diverso noi abbiamo cercato di dare una linea guida di base che fosse unica per tutti prendendo come punto di riferimento quella che era la normativa regionale in Lombardia che è stata anche un po' in tempestiva perché poi qua si incontrano due piani quello della tutela dei dipendenti e quello della tutela dei clienti e non sempre sono ovviamente normative che si possono sovrapporre in generale quello che abbiamo cercato di fare è quello di trarre la soluzione che fosse il più protettiva possibile quindi se era più protettiva quella per i dipendenti tendevamo ad applicarla anche ai clienti e viceversa per cui quello che abbiamo dovuto fare è stato un po' di rivedere all'interno di ciascuna regione dove eravamo quelle che erano poi le normative specifiche, tecniche adottate e via via poi implementarle dappertutto ovviamente non sempre è possibile farlo perché alcune distanze, ad esempio una problematica che è nata sul filo del rasoio la settimana scorsa è stata quella che in regione Lombardia la distanza minima di sicurezza è considerata un metro per cui noi abbiamo valutato anche le distanze anche rispetto alla cassa e i punti di accesso ai negozi sulla base di questa distanza e poi in regione Toscana invece la distanza di sicurezza è stata considerata un metro e ottanta quindi ovviamente quasi raddoppiandola per cui da un punto di vista anche organizzativo non è stato semplice adattare ogni punto vendita a queste semplici disposizioni attuative che però ovviamente richiedono un attimo più di complessità nell'organizzarle in via preventiva ovviamente appunto come le dicevo non sempre è semplice adottare la situazione più protettiva proprio perché i punti vendita hanno anche dimensioni diverse quindi da alcune parti è possibile magari fare un percorso separato per l'ingresso e l'uscita come è previsto nei protocolli più avanzati soprattutto quelli adottati ad aprile dall'altra parte però ci sono alcuni punti vendita soprattutto quelli in centri storici dove creare un percorso di vendita quando si ha un unico accesso diventa un po' più complesso e quindi anche organizzare il flusso dei clienti richiede anche un po' più di attenzione da parte anche degli assistenti di vendita quindi si tratta di cercare di contemperare quelle che sono le esigenze specifiche tecniche dei luoghi con quelle che sono poi le normative applicabili la cosa ovviamente non è semplice non solo dal punto di vista poi legale di cose consigliare di fare meglio o peggio ma è anche e soprattutto l'aiuto che si può dare ai colleghi che si occupano poi di organizzazione dei negozi per cercare di fare fluire il tutto al meglio continuare comunque a fare godere ai clienti di quella che è l'esperienza di acquisto che soprattutto quando ci si reca dei negozi è un po' più complesso, è un po' più emozionale rispetto a quella che si ha acquistando ovviamente online quindi anche il fatto di dover gestire la questione delle distanze con la questione appunto dell'acquisto emozionale del fatto di poter provare un capo ovviamente non è una cosa banale e richiede un po' più di sforzo, un po' più di attenzione anche da parte ovviamente dei venditori che c'è un problema proprio anche di tempestività delle normative che vengono emanate dalle regioni ricordiamo la Lombardia per esempio ha introdotto l'obbligo del termoscanner sul filo del rasoio esatto, si è arrivato proprio alla fine della settimana prima della riapertura quando ovviamente gli approvvigionamenti di termoscanner erano ridotti all'osso quindi abbiamo avuto delle enormi difficoltà nell'arco del weekend a riuscire a recuperare tutti i termoscanner sufficienti e necessari da poter dare ai nostri negozi per poter permettere anche ai nostri dipendenti ovviamente di accedere al lavoro in condizioni di sicurezza quindi questa è stata una complessità che si è aggiunta alle complessità così come un'altra complessità che a tutt'oggi comunque non è stata a livello tecnico chiarita è quella della sanificazione dei capi la sanificazione dei capi ognuno ovviamente la porta avanti come ritiene che sia più corretto all'interno del proprio punto vendita noi avevamo la complessità che oltre ovviamente a dei capi in tessuto abbiamo ed è il nostro call business tantissimi capi di pelletteria che non possono semplicemente essere trattati con prodotti disinfettanti piuttosto che con vapore 100 gradi eccetera ovviamente perché la pelle non resiste a questo tipo di trattamento e quindi abbiamo cercato di approfondire altri metodi per poter sanificare i prodotti per dare ai nostri clienti quella che è la situazione più sicura per approcciarsi e ritornare appunto alla vita normale quindi ad un acquisto che fino a qualche mese fa avremmo fatto senza farci troppi problemi quindi continuare a provare anche gli abiti le borse sapendo comunque di avere degli oggetti che sono stati trattati in maniera appropriata e che quindi danno una sufficiente confidence di avere appunto una carica virale pressoché nulla insomma però ovviamente si tratta di tutta una serie di accorgimenti che sono stati frutto di dibattito nel corso delle ultime settimane molto approfondito all'interno dell'azienda è ovviamente un aspetto che forse sta sotto la superficie quindi chi entra nel negozio non si accorge neanche della complessità di riaprire un negozio in una situazione che non è tutta attuale certo assolutamente e avvocato io le faccio un'ultima domanda che un po' appunto è la cui risposta è emersa anche da quello che lei ha detto cioè come cambia anche la figura del general counsel o del responsabile dell'ufficio legale di un'azienda nel senso che da quello che appunto è emerso è una figura sempre più chiave per appunto in questa fase 2 ma anche in tutto quello che sarà il futuro che ovviamente non possiamo prevedere certo quello che noi abbiamo sempre cercato di fare come ufficio legale all'interno dell'azienda ma forse è emerso ancora di più in quest'ottica emergenziale è che dobbiamo essere sempre in maniera maggiore dei business partner veri di tutti i servizi all'interno dell'azienda proprio perché soprattutto adesso ma lo era anche in parte in passato molte delle attività che vengono svolte all'interno dell'azienda hanno un risvolto legale che non è un risvolto legale molto spesso banale o che può essere comunque sottovalutato o relegato diciamo ad una delle varie attività quindi è necessario che qualsiasi tipo di aspetto della vita legale soprattutto della vita aziendale soprattutto adesso che poi ci troviamo di fronte ad una serie di complessità legate proprio alla situazione che si è venuta a creare siano analizzate da tutti i punti di vista quindi non solo dal punto di vista commerciale piuttosto che dal punto di vista di marketing ma si deve trovare anche un posto per l'overview legale proprio perché le complessità legali che sono emersi adesso che purtroppo ci continueranno ad accompagnare temo almeno fino all'anno prossimo e ovviamente augurandosi che sia periodo ridotto hanno la necessità di emergere e di accompagnare comunque l'azienda nello sviluppo di qualsiasi tipo di progetto purtroppo le complessità legali sono in questo momento assolutamente imprescindibili e quindi è necessario anche per permettere a qualsiasi tipo di progetto di svolgersi e di culminare al meglio di avere tutte le visioni possibili quindi la visione legale deve essere comunque assorbita all'interno di ciascun progetto e deve essere comunque considerata al pari di tutte le altre quindi non veniamo più diciamo così alla fine ma dovremo venire insieme alle altre organizzazioni proprio per concepire il progetto nella sua unità e permettergli poi di crescere di espandersi e di essere applicato senza che ovviamente l'azienda incorra in problematiche esatto perché infatti la corretta applicazione e interpretazione delle norme che in realtà chiare non sono poi determina proprio anche la parte di responsabilità dell'azienda che può essere anche penale avvocato io la ringrazio molto per essere stata con noi per il suo interessante contributo grazie a voi le auguro un buon lavoro e un saluto anche ai nostri telespettatori appuntamento alla prossima puntata grazie 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 grazie